Ciao Ciao Io sono Lell e tu? Berdix Io sono Lell e tu? Berdix Ok, in arte poi? Eh, Berdix è il mio nome Berdix, niente Berdix, io devo farti una confessione Stasera era il mio preferito, mi sei piaciuto tantissimo Il tuo era un inedito, giusto? Si, era un inedito scritto da me, la base era edita di Aminam Però ci sta, ogni tanto ci sta anche fare le cose sulle basi americane, sperimentare un po' Assolutamente, la sperimentazione è la base di tutto, soprattutto per chi fa la musica così come la fai tu Si, è la prima cosa, l'immaginazione, il viaggio che ti fai, l'emozione, la musica, il sonno Tra l'altro ho trovato, stasera eravate una squadra di bulli formata completamente da rapper Voi sembrate tutti spavaldi, però in realtà siete tutti timidi, introversi e molto diversi da quella che è l'immagine esterna, tu specialmente Si, io parecchio, ma in realtà dipende, ci sono gli spocchiosi come li chiamo io, ma sono pochi, io penso che un artista in sé sia sempre più sensibile di quello che è da vedere E io concordo con te Siamo i due, concordiamo, penso che concordino anche loro Allora salutiamo tutti quelli che concordano Bella rega Allora 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 Allora